con piacere a culture social art abbiamo l'autore boris gagliardi benvenuto boris grazie a te per avermi invitato a parlare del romanzo che ho scritto blu o blu allora infatti noi siamo sempre molto curiosi la letteratura ci piace ci piace leggere quindi incontrare poi nuovi autori che si si mettono anche un po in gioco per quanto riguarda la scrittura è sempre sempre un piacere è il tuo primo libro ecco io sono sempre molto curiosa quali sono le emozioni che hanno accompagnato la scrittura e poi anche la pubblicazione di oblio blu guarda in realtà è il primo romanzo che scrivo ho scritto due libri prima però sono due libri di diciamo di riflessioni di pensieri di emozioni quando oblio blu invece è stato il mio desiderio di provare a cimentarmi in una forma più complessa un romanzo dove c'era comunque c'erano dei personaggi c'erano dei dialoghi delle atmosfere dei luoghi da raccontare e anche dei dei temi da affrontare quindi è stato questo il è nato così un po per gioco è un po perché un libro l'avevo il primo libro l'avevo dedicato alla prima bambina a maia e quando è nata la seconda mi sono detto ma forse sai che secondo i figli vengono sempre un po meno hanno meno un po meno attenzioni allora ho pensato di che e oblio blu potesse uno dei personaggi potesse avere il nome delle caratteristiche della mia bambina più piccola noemi ecco guarda io infatti ti avrei subito chiesto a chi ti sei ispirato per scrivere questo libro una parte me l'hai detto perché i figli di mezzo sono sempre i secondi un po più lasciati in secondo piano ma è soltanto una credenza perché come si dice una credenza popolare perché poi realmente non è così però parlaci direttamente a chi ti sei ispirato chi sono questi personaggi che caratterizzano il romanzo e i personaggi rappresentano un po le diverse facce della stessa anima e la stessa anima si è composto si è scomposta in otto protagonisti e ognuno vive in uno spazio temporale differente chi nel presente chi nel passato e chi nel futuro hanno però qualcosa in comune sono tutte parti della stessa anima e tutti il libro parte nel nella prima parte racconta le singole vite di questi protagonisti e quindi sembrerebbero da un certo punto di vista si potrebbero con il libro si potrebbe concludere con le singole storie di 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 loro però in realtà si iniziano c'è un ci sono una serie di accadimenti di forze esterne e che direttamente o indirettamente li riguardano e ognuno di loro inizia a farsi delle domande e si sente coinvolto e inizia un percorso o un percorso personale che poi li porterà a cercarsi cioè loro sentono che c'è qualcuno nel mondo che gli appartiene in qualche modo e allora partono iniziano a cercare e gli altri protagonisti del del libro e ad agganciarli è qualcosa di diciamo di molto forte a cui nessuno può sottrarsi perché c'è un assassino che cammina nelle patrale pagine del libro e quando una persona a te vicina o qualcosa che è troppo forte ti sfiora e non puoi far finta di niente o se non sei tu a porti qualcuno che accanto a te inizia a farti a chiederti ma tu che ne pensi ma ma come mai o a volte queste questi diciamo queste intuizioni arrivano indirettamente attraverso dei sogni attraverso delle visioni o degli incontri delle domande che rimangono in sospeso e che viaggiano nella testa dei personaggi e spingendoli a chiedersi chi essi siano veramente io sono anche curiosa perché chiamarlo oblio blu oblio blu e intanto fa è un far riferimento a far riferimento al mare quando ho dovuto quando ho pensato a che forma potesse avere l'anima la prima immagine che mi è comparsa è stata quella del mare nelle due nelle sue diverse profondità dalla luce della superficie all'oblio degli abissi alle tenebre degli abissi e ho pensato che l'anima fosse un qualcosa di così vasto e a volte non non completamente esplorato e mi è piaciuto viaggiare all'interno dei personaggi come se viaggiasse all'interno della loro delle loro diverse profondità a volte con alcuni personaggi e i temi sono stati leggeri rimanendo nel sulla superficie dell'acqua anche perché la superficie è un po delimita e ci dà una forma è come una cellula e la membrana ci ci dà un c'individua e ci dà dei confini a volte invece sono andati in profondità e ho fatto una perché nelle profondità in esplorate si può si possono nascondere creature meravigliose o strane o diverse che che possono possono sorprenderci e quelle creature siamo anche noi quando navighiamo nel buio o nel silenzio degli abissi inoltre l'oblio rappresenta un po la dimenticanza cioè quando l'uomo si dimentica della sua anima rischia di perdere un po quello che è il collegamento che lo lega all'universo in generale che lega il cielo alla terra e quindi rimane solo in superficie lì si può anche perdere o può dimenticarsi di se stesso immagina che io mi ero un attimo fermata su quel blu generalmente il blu è un è un colore rilassante io io penso che lo sia perché a me rilassa tantissimo il libro è rilassante oppure c'è qualcosa che ti deve animare il blu è infatti è il blu del soul è il blu dello spirito nelle sue diverse sfumature un colore è un classico è un colore profondo è un colore nelle sue varie sfumature affascinante ed è anche il mio colore preferito ma è in generale colore dell'acqua quindi della del liquido amniotico il colore di tutto ciò che diciamo in qualche modo ci e ci ci richiama e ci riporta all'origine quindi è un colore vorrei dire anche un po serio perché quando parliamo dell'anima è una cosa è non seriosa seria nel senso che è una cosa che ci riguarda nella nostra intimità quindi la nostra intimità va celebrata e tutelata qual è invece il messaggio che vuoi mandare attraverso il libro il lettore lo legge che cosa cosa può apprendere guarda i diversi personaggi raccontano storie diverse e ognuna i temi sono così diversi universali che possono riguardano tutti noi perché ad esempio cue che è uno dei protagonisti è un bambino è un bambino che però viene dal futuro e rappresenta un po' il bambino interiore la nostra essenza la nostra parte diciamo più pura e che contiene tutte le parti e nessuna o almeno da bambini non ha come potevamo litigare dopo pochi minuti potevamo fare pace con la stessa persona o potevamo integrare altre persone dentro la nostra storia ed è quello che a me piace pensare e quindi c'è un bambino da recuperare perché viene dal futuro non dal non solo dal passato Jules e Jim sono due amici scansonati che passeggiano per le vie di Roma e che rubano dei momenti alla loro vita per ritagliarsi degli spazi per condividere delle esperienze in un contesto come la Roma fatta dei monumenti del Pantheon e in questo loro percorso in questa loro passeggiata il mistero andrà l'imprevedibile di raccoglierà e li porterà altrove Barcellona è una bambina è una ragazzina di 16 anni e che vive e soffre la mancanza di una mamma la presenza di una mamma e quindi ho affrontato il tema della solitudine solitudine è come una raccontata come una stella lontana e Barcellona pensa che è come un marchio che l'ha segnata e che non potrà venirne fuori non potrà imparare ad amarsi e ad amare gli altri perché la mamma non gliel'ha insegnato non l'ha avuta e poi c'è chi invece la solitudine come Baris che è il trombettista del libro che la solitudine la va cercando perché lo ispira nelle sue armonie e appositamente va a cercare luoghi silenziosi per poter trovare ispirazione con la sua amica tromba e questi sono solo sono otto i personaggi quindi ci sono anche altri e varie con vari temi che io penso possano possano catturare o possano piacere ai lettori ecco proprio parlando di lettori quali sono stati i primi riscontri che hai ricevuto i primi messaggi le prime opinioni su quello che poi hanno letto allora le prime i primi diciamo aggettivi che hanno operato è stato scorrevole nonostante sia un libro comunque di 400 e passa pagine è un libro che si legge nel giro di appassionati lettori se lo leggono in due tre giorni magari chi ha poco tempo perché è preso dal lavoro penso che nell'arco di una settimana dieci giorni lo riesce a mangiare e a digerire e il libro chiaramente come tutti i libri si consiglia di mangiarselo subito perché diciamo ne cogli appieno le suggestioni anche perché il libro diciamo che è vissuto come una serie di flash di immagini che dei diversi personaggi e che raccontano un momento della loro vita e del loro passaggio e quindi per riuscire a stare nei collegamenti è meglio leggerlo tutto ad un fiato ma si presta perché è molto un libro musicale e i riferimenti musicali sono oltre che quelli letterari sono tanti e quindi si entra nella musica alcuni dei alcuni dei alcune parti del libro le ho scritte anche ascoltando della musica mi piaceva mi mi ti ispirava mi ispirava e mi manteneva in un ritmo musicale che era quello che io amo la scrittura per me non deve essere una scrittura complessa deve essere una scrittura che arriva a tutti chiunque deve poterla leggere senza interruzioni è più il messaggio che mi interessa più la curiosità o le suggestioni che possono nascere dal mettere le parole in un certo ordine questo mi piace e rende il libro vario pure io so che lo hai lì insieme a te il libro ecco bravo dopo ce lo fai ancora esatto vedere oblio blu e ora sta cominciando il periodo della promozione cioè l'incontro con i lettori come stai vivendo questo momento e poi dici anche qualche incontro a cui parteciperai e quindi farai anche penso il firma copie la dedica quello che amiamo tanto avere sui nostri libri sì sono felice perché il libro durante il periodo del covid giustamente non ha avuto molto spazio ho fatto qualche diretta online su instagram con altri autori della casa editrice book e book che ho avuto il piacere di conoscere ora finalmente con la bella stagione sembra che tutto sia ritornato nella normalità ho organizzato una presentazione dal vivo qui proprio qui a Roma nella piazzetta di San Clemente dove ci sta la chiesa bellissima in via di San Giovanni in Laterano e il 12 di giugno alle 6 del pomeriggio farò questa presentazione farò ecco a chi ha già acquistato il libro potrò fargli la dedica e chi invece lo prenderà insomma avremo il piacere di conoscerci se c'è qualche domanda in più che vogliono farmi con piacere e non solo alla fine poi faremo anche un piccolo buffet all'enoteca letteraria che sta lì vicino per festeggiare è un figlio questo è un'opera è un figlio che ho messo al mondo e quindi lo voglio è giusto che lo celebri e lo spinga lo spinga avanti e lo faccia conoscere a chi è curioso e vuole incontrarlo ecco allora noi aspettando di riuscire a vederti ancora in giro promuovendo il tuo libro e quindi avendo anche l'opportunità di mettere qualche dedica su questi che rendono comunque il libro più personale e particolare io ti ringrazio di essere stato con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il libro ma anche per altro grazie a te della tua gentilezza e della tua professionalità se è possibile ti aspetto alla presenza se non hai altri impegni con piacere ci abbracceremo alla presentazione perfetto grazie e ancora in bocca al lupo grazie Graipi grazie a te Grazie per la visione!